ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo di un argomento fondamentale che sono gli occhiali occhiali per correre visto correre veramente con qualsiasi tipo di occhiali con i reibano qualsiasi occhiali pesanti qualsiasi cosa la domanda è quali sono i migliori migliori non ci sono sono quelli che si approcciano al ciclismo e comunque sono più o meno gli stessi e vanno benissimo ho trovato nel negozio per eccellenza di amatori proprio di sport questi qua c'è decadon e lo pagate anche poco e funzionano benissimo andiamo in campo e vi faccio vedere però sono veramente comodi let's go di qua in pista e adesso vi proviamo bene abbiamo fatto tutto adesso andiamo a casa e le conclusioni eccoci qua tornati considerazioni veloci comodissimi danno neanche fastidio al naso soprattutto sono molto leggeri la stecca come potete vedere è di gomma quindi non c'è pericolo che si rompono anche se scuoti non vanno quindi si agganciano i fetti ci si può partire anche dai blocchi quindi perfetto vi lascio qua sotto come al solito il link in descrizione per comprarli tanto costano 15 euro quindi nessun problema vi lascio anche qui sotto in descrizione il sito su top for running e 5 per cento di sconto su tutti i prodotti codice sconto sorri mi raccomando ci vediamo al prossimo video ciao gari